E' arrivato il momento di farlo sborrone in Lega Leggenda Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, sono Kai Ragazzi oggi sono tornato in questo nuovo video per provare a farlo sborrone in Lega Leggenda Dato che ho finito la mia scalata e non sto più scalando e sto giocando effettivamente un po' di meno a Clash of Clans Dato che tutti portano Clash Royale, io porto Clash of Clans Allora, ultimamente come potete vedere qua, proprio subito dopo la stagione Dato che non stavo giocando tanto e mi è finito lo scudo, ho vinto 3 difese di seguito Madonna, vincere 3 difese di seguito quando scalavo, no, c'è veramente, santo il signore che mi vuole male Vabbè, qua, guardate, abbiamo persino vinto un 49% Io sinceramente li avrei anche lasciato le coppe, poverino, stava scalando, stava tentando di arrivare in Lega Leggenda E arrivare a un bel 49 penso che brucia, vabbè, dopo hanno iniziato a aprirmi il buco del culo, insomma Allora, oggi sono qua per provare a fare un attacco in Lega Leggenda con Barbari e Arcieri Per chi non fosse molto pratico, Barbari e Arcieri è praticamente le truppe base del gioco Quelle per fare farming, per fare risorse Allora, io ero mago dei Barce, per chi non si ricordasse uno dei miei vecchi video Probabilmente facevo due stelle a tutti i Town Hall 10 maxati, all'epoca quando non c'era ancora il Town Hall 11 Vediamo se le cose sono un po' cambiate e se con l'introduzione di questo cazzone Sarò ancora in grado di fare due stelle ai Town Hall 11 maxati Allora, io mi sono importato anche un Golem per sicurezza perché il cazzone fa un po' male Fa male, fa male Allora, truppe, barbari, giganti, cosi barbari ancora e spaccamoro Pozioni le solite Una terremoto del castello Due furie, un assalto, due gelo e una veleno del mio accampamento E naturalmente i miei eroi super mega cazzottissimi Un pochino maxatelli 20, 20 e 6, 20 40, 40 e 20 Bene, ora partiamo in ricerca Santo il Signore, se ora trovo un villaggio entro domani mattina sono anche più contento Nel frattempo, mentre cerchiamo un villaggio, noi cerchiamo una partettina su Clash Royale Finalmente ho trovato cosa fare durante le nuvole Santo il signore come vuoi che Devasto questo villaggio Con barbari e arcieri Eeeh Provare non nuoce nessuno Nuoce la mia sanità mentale Forse Allora Sto qua sta già sborrando Mentre guarda la live Dice figa sto qua che mi attacca con barbari e arcieri E' un deficiente Insomma vabbè dato che a me non mi importa Tanto di perdere il cop Perché ormai sono già arrivato a Lega campione ho finito la mia Grande scalata Proviamo tentiamo Tutto per tutto ragazzi Mettiamo furiggiamo congeliamo il Cazzone cerchiamo Una penetration eroi Eroi dai dai Ragazzi dai ragazzi Non potete deludermi così Congeliamo Ora speriamo Porca puttana Naturalmente io non prendo Il coso Porca che figa De somare Dai Una stella Stanza Stanza di eroe al 40 Almeno una cazzo Oh Mission complete ragazzi Sono riuscito A fare lo sborrone In lega Leggenda Ho fatto una Cazz Purtroppo Una cazzo Beh almeno una Una di stella l'ho fatta Con Barbari E Arcieri In lega Leggenda Sono anche le campane Del mio paese Vabbè ragazzi Come potete vedere In lega campione Si farma Che è una meraviglia So che in questo momento State dicendo Kai Cazzo Io non trovo un cazzo In lega Oro 3 Argenturo Non trovo un cazzo E tu A leggenda Fai sti bottini La vita è dura Per tutti Vabbè Come potete vedere Ho fatto due copie Cioè Dovevo scalare Due copie Ciao Veramente Ciao Allora Ora torniamo a casa Salutiamo un po' La globale Ciao Dato che dobbiamo fare Un po' i sborroni Allora ragazzi Ho 4 milioni Di oro Che me ne faccio Di 4 milioni D'oro Andiamo Allora Come potete vedere Ho fatto ben 11 pezzi Di muri Di mura A livello 11 Significa che 11 per 4 Sono 44 milioni Di risorse Per fare sti 11 pezzi Madonna Vabbè 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 Scialla Stay scialla Allora Dato che abbiamo Altri 4 milioni Di oro Facciamoci un altro Pezzettino Di muro A livello 11 3 2 1 Stella Piace la tua foto 3 2 1 Tagadadada Ora Chiediamo Big money Al mio clan Ciao Kai Kai Veni nel nostro clan Chi vuole venire Ciao Kai Kai Sono un tuo Grande fan Ciao Franci Call of duty Ciao Kai Come cazzo Mi hai scritto Il mio nome Ciao Kai Kai Vabbè Te la lasciamo Sono un tuo fan Ci farai crescere Sei un grande Ma lasciatelo stare Povero Vabbè Allora Ciao A Tutti Scriviamo in modo decente Tutti Vabbè Ragazzi Questo era il video di oggi Sono uscito a fare lo sborrone In Lega Leggenda 10.000 like 10.000 Almeno 15.000 Cioè Per la Lega Leggenda Questo era tutto per Ho dimenticato la mia outro Questo era tutto ragazzi Per Questo era tutto Questo era tutto per il video oggi Come al solito Lasciate un like Un commento E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao